La crisi sentimentale tra Simona Ventura e Gerò Simona Ventura e Gerò, crisi superata, matrimonio nellestate 2018 Crisi superata tra Simona Ventura e Gerò Carraro? La rivista Spy lo conferma. La crisi sentimentale tra Simona Ventura e Gerò Carraro sembra essere del tutto risolta. Solo poche settimane fa la Ventura aveva dichiarato, va tutto bene. Ma in questo momento le mie priorità sono altre. I miei figli, i viaggi allestero per Giacomo, la scuola con Caterina e il brutto incidente di mia mamma. . Insomma un caos, ma tengo botta. I due per superare la crisi sono stati in vacanza in Sardegna, ed è stato forse in quell'occasione che sono riusciti a riavvicinarsi. . È la rivista Spy a far sapere del loro riavvicinamento. Sul settimanale di Mondadori si legge infatti, alla festa di Federica Panicucci a Villa Gernetto, in Brianza, c'era una coppia che spiccava tra tutte. Si tratta di quella formata tra Simona Ventura e Gerò Carraro, che si sono tenuti tutta la sera mano nella mano. . E tornato il sereno tra i due, si parla già di matrimonio?. Nella rivista si legge anche, i due sono totalmente in love e sono passate le brutte nuvole all'orizzonte. . C'è chi parla di nozze entro l'estate 20.183. . A quanto pare non solo la coppia ha superato la crisi, ma c'è chi parla già delle loro probabili nozze entro il prossimo anno. . Per Simona si tratta del secondo matrimonio, in passato è stata sposata con Stefano Bettarini, dal quale ha avuto i figli Niccolò e Giacomo. . 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